Ha ucciso con tre colpi di pistola a bruciapelo il pitbull che aveva azzannato il suo cagnolino. Una vendetta animalesca, quella messa in atto da un 59ne di Molfetta, adesso arrestato dai carabinieri con le accuse di detenzione illegale di armi e munizioni da guerra e ricettazione, oltre che per uccisione di animali. L'intervento è scattato a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano udito alcuni colpi di arma da fuoco provenire da un cantiere. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto un bossolo di pistola. Il resto lo hanno fatto i filmati registrati da un impianto di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire l'accaduto. Dopo che il pitbull aveva ferito il suo cagnolino, trascinandolo sotto una pensilina, il 59enne, custode in un deposito di materiale edile, ha impugnato una calibro 9 detenuta illegalmente e ha esploso tre colpi contro l'animale, uccidendolo. Poi ne ha nascosto la carcassa in un terreno nelle vicinanze e fatto sparire la pistola. Interrogato dai carabinieri e messo di fronte alle immagini riprese dalla telecamera di sicurezza, l'uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Per lui si sono così aperte le porte del carcere. Il suo cane, seppur gravemente ferito dai denti del pitbull, non sarebbe in pericolo di vita.